Ciao amici di Playa Latina Web TV, siamo sempre Claudio Loretta di Salsa Cribe Dance, una scuola di Ravenna, di balli caraibici e non solo. Proseguiamo il nostro studio della salsa portoricana. In puntate precedente abbiamo fatto vedere una figura che si chiama mezza elica, adesso la complichiamo un attimo, la chiamiamo mezza elica complicata, così per convenzione. Passo la parola a Loretta per la spiegazione dei passi. Ok, andiamo in posizione chiusa, posizione chiusa con un cross, cambio mano, sempre la vuelta a destra come se dovessimo fare sempre la nostra mezza elica, una carissima sulla dama, una mambo, attenzione che qui viene la variante, mentre l'uomo ci porta a girare al tempo 1 verso di lui, anche lui si girerà a destra, lancerà il nostro braccio e noi scenderemo appoggiandosi sulla sua mano destra e da di qui ci porterà in un teaser 5, 6 e 7. Quindi passo avanti, 1, 2, 3, 5, 6 e 7, ci fermiamo in questa posizione. Ripetiamo la stessa cosa dalla parte opposta, quindi dalla posizione chiusa andremo in un cross, cambio mano, quindi andiamo a eseguire praticamente la nostra mezza elica, vuelta a destra della donna, sulla dama, una carissia, mambo, mentre l'uomo ci gira, ci lancia il nostro braccio sinistro in alto, scendiamo, andiamo in un teaser, ci porta a rigirare verso di lui. Finita! Ciao ciao!